Bella ragazzi, eccoci dunque al 17esimo episodio. L'episodio precedente a molti di voi non era piaciuto perché mi avete detto che era un po' troppo corto, infatti oggi ho deciso di allungarlo un po' aggiungendo una partita. Per la partita di oggi giochiamo contro il Chelsea, ma prima arriva un'offerta dalla federazione finlandese se non sbaglio, sì finlandese ma rifiutiamo. Ho deciso di comunque accettare durante la sezione una nazionale mi sarebbe piaciuta molto il Belgio, o comunque vediamo l'offerta che arriveranno. Giochiamo col solito tridente con Bacogo, Muse e Quidetti, centrocampo Don Bia e poi solita formazione. Giochiamo allo Stamford Bridge, guardate che grande stadio. Però partiamo subito bene perché al terzo minuto c'è calcio in angolo di Zeta Trigues che la mette per Felipe Santana che si fa a terra da Michel, da Obi Michel e quindi calcio in rigore subito dopo tre minuti. Dal discreto si presenta il capitano Musa e la nostra Musa ispiratrice non sbaglia mai. 1-0 al quarto minuto che è un gol che ci aiuta molto per il resto della partita perché comunque il Chelsea è una grande squadra e infatti subito dopo al ventesimo c'è un rigore per loro. Kalash si fa sorprendere da Starridge che è furbissimo. Dal discreto si presenta Eden Haddard, il belga, contro Hart. Parte Haddard, Hart, incredibile, para forse il suo terzo rigore consecutivo. Bacogo al trentesimo lancia Guidetti che ci prova col sinistro ma la palla va fuori di molto. Fisch il primo tempo sull'1-0, una partita equilibrata ma ha giocato anche molto bene il Chelsea ma noi siamo stati bravi a contenerli. Al cinquantesimo Cole scaccia sulla fascia e mette in mezzo per Starridge ma sbaglia il tiro di poco. Guamata qua per Fernando Torres che tira ma Hart copre proprio la porta. Al sessantiquattresimo c'è il lancio per Musa. Musa furbissimo supera Cole e poi si alza la palla per l'uscita di Cech e un altro calcio in rigore. Furbissimo il capitano Musa che si fa atterrare. Ci stava l'espulsione anche di Cech ma l'arbitro non la dà e calcio in rigore. Parte il capitano secondo gol di oggi e ci sibbiamo con l'esultanza più brutta del mondo. Fa il pitbull. È bruttissimo davvero. Comunque al settantesimo c'è questo tiro da fuori del Chelsea ma bravissimo Hart. All'ottantaduesimo Hazard ci prova ancora ma Hart oggi insuperabile. Dopo pochi minuti all'ottantesimo Raul Mereles si fa tra Felipe Santana che viene anche espulso. Non capisco perché la nostra espulsione sì e quella di Cech no. Comunque al dischietto ci va ancora Eden Hazard. Il tiro è forte centrale. Hart non può far nulla. Ma la partita finisce qua. Compiamo una grande impresa contro una delle grandissime del calcio inglese come il Chelsea. Partita importantissima soprattutto per il morale dei ragazzi. Tra i punti importanti per la nostra lotta all'Europa League. Passo nei giorni O'Hara come ricordate molto tempo fa si era lamentato perché aveva paura di perdere il posto. Noi comunque abbiamo deciso di tenerlo ancora. Brutta notizia. Si infortunia Tommy Villegna. Due settimane starà fuori. Giocheremo contro il Birmingham. Ah comunque ragazzi mentre aspettate se vi va lasciate anche un mi piace. Cliccate tanto non mi costa nulla. E per me sono sempre graditi mi piace. Giochiamo contro come già detto col Birmingham. Solita formazione con O'Hara al posto di Dumbia per far rifiutare un po' i nostri centrocampisti. Solito nostro tradiente. Giochiamo contro diciamo che era la lotta per il titolo dell'anno scorso ma il Birmingham comunque era forte l'anno scorso e è forte anche quest'anno. Ci prova subito Gomis. Guidetti fa una grande giocata. La mette in mezzo. Liscio di Doyle ma Musa non arriva. Campbell ci prova Martin. Non si fa sorprendere al ventesimo. Poi ci provano ancora. Il Birmingham ha giocato davvero bene. Al ventinovesimo c'è questa grande azione di lì che supera in velocità Filippe Santana ma la palla va fuori. Al trentasesimo c'è questo stupendo lancio di Guidetti per un fantastico capitano che scucchiaia alle spalle del portiere e si esibisce con delle caprole alla Obaoma Martins. Andiamo sul riposo sull'1-0 con il gol al trentottesimo del capitano che oggi continua a segnare ripetizione. Terzo gol in due partite. Ed è il capitano della Premier per adesso. Al cinquantacinquesimo andiamo ancora avanti. Musa però stavolta sbaglia lo stop. Si allunga troppo la palla. Al sessantasettesimo lancio di Burke. Guarda che bella azione. Gli ma zoome monumentale oggi. Bakogu per Bellomo che ci prova dalla distanza appena entrato ma Doyle non si fa sorprendere. All'ottantunesimo Bakogu lanza Lex Redmond. Nathan Redmond che si fa tutto il campo. Arriva davanti al portiere e lo beffa sul palo più lontano. Si limita a una leggera corsa a non esultare. Si fa abbracciare dai compagni per rispetto della sua ex squadra. All'ottantacinquesimo c'è ancora questo bel tiro di Burke del Birmingham ma la partita finisce qua. Altri tre punti importantissimi nella nostra corsa all'Europa. Tre punti davvero fondamentali perché comunque ci danno anche morale per le partite successive senza surbir gol quindi significa che abbiamo fatto una grande compagna acquisti. Motiviamo i nostri ragazzi e adesso giochiamo all'Etihad contro forse la squadra una delle squadre più forti al mondo che è il Manchester City di Roberto Mancini dove ci gioca il mio idolo in assoluto che come ben sapete c'è alcuna guerra. Al secondo minuto Milner prova a beffare il suo ex compagno di squadra ma Art non si fa sorprendere. E qua c'è un altro ex e John Guidetti. John Guidetti scarta tutti e va davanti la porta e non ci sono speranze per Andanovic che è il nuovo portiere del Manchester City. Qua ci prova guerra ma Art bravissimo. Al tredicesimo c'è calcio l'angolo di Snyder per la testa di Lescott che segna il gol del pareggio. Meritato anche a loro perché hanno giocato, c'è da dire la verità, molto meglio di noi. Andiamo sul riposo sull'1-1. Bravissimi due portiere soprattutto Art. Qui al 49esimo c'è questo tiro di Benzia ma Andanovic bravissimo. Sinclair per Snyder, Snyder per Ruan che non so chi sia ma davanti al portiere sbaglia. Meglio così. Ci prova ancora Benzia ma Andanovic è bravo a capire l'attaccante francese. Qua azione di Aguero che mette in mezzo ma Felipe Santana riesce a spazzare. Azione stranissima. Bell'uomo arriva sulla palla. Avrebbe il gol della vittoria all'85esimo ma lo sciupa clamorosamente. Bravissimo Andanovic. Fisce 1-1 questa partita. Riesciamo a bloccare anche il Manchester City. La nostra squadra si fa vedere che comunque con il gioco, con la sostanza e la costanza scusate, si può mettere sotto molte squadre. Per adesso siamo quinti a 16 punti a pari merito col Tottenham che andremo ad affrontare proprio oggi. Il Tottenham come ben sapete, spero molti di voi lo sanno. È una delle squadre più forti che sia in FIFA perché se fate i campionati in Premier è sempre tra le prime tre fare i campionati veramente incredibili. Poi hanno in squadra la gente come Yoris, Bale, Parker, Dempsey, Dembele, Adebayor. Una grande squadra. Al 10 minuto infatti ci provano subito con Dempsey però che sbaglia questo tiro. Al 32esimo Lennon tira Dembele, Hart però la respinta la fa un po' corta ed Emanuele Adebayor segna il gol del vantaggio per gli ospiti. Il Tottenham comunque sta giocando un primo tempo meraviglioso. Hanno un possesso palla strepitoso. Vilenia qui scappa a Bale incredibile ma Yoris fa una parata eccezionale. Andiamo sul riposo sull'1-0 per il Tottenham. Vantaggio meritato per gli avversari c'è da dirlo. Al cinquantesimo c'è questo lancio per Lennon ma Hart monumentale. Ancora azione fantastica di Adebayor per Dembele ma sbaglia il tiro clamorosamente. Al settantesimo Gesù Rodriguez mette in mezzo per Mbakogu. Una capocciata incredibile. Ma al settantacinquesimo Musa scatta, mette in mezzo. Jacin Menzià, il nostro talentino francese, ex Lione, segna il suo primo gol stagionale. Al settantesimo c'è il pareggio ma qua cross stupendo di Bale d'esterno per Sigurosson che non so chi sia. Ma segna il gol del vantaggio e anche della vittoria per il Tottenham. Tra i punti... diciamo che potevano giocarci il pareggio contro questa grande squadra ma arriva una sconfitta meritata diciamo. I nostri ragazzi non sono espressi al meglio contro una grande squadra. Andiamo avanti e qua comunque vedete ancora i festeggiamenti della squadra avversaria. Giochiamo contro lo Stock City che è una squadra in metà classifica con un grande attacco secondo me con Kevin Jones e Peter Crouch. Comunque hanno una squadra solida che da molti anni gioca in Premier. Arriva l'offerta per allenare la Slovenia di Josipilicic e Kurtic e molta altra gente. Questa qua ha deciso di temporeggiare un po' con quest'offerta perché mi piace la Slovenia come squadra. Solita formazione per noi con il solito tenente con Bakogu, Musa e Guidetti e centrocampo ancora Oara. Diciamo contro i Potters. Parto subito infatti benissimo loro con Eterengon che davanti al portiere sbaglia incredibilmente. Art non si fa sorprendere. Al ventisesimo Musa mette in mezzo per Bakogu ma Begovic non riesce a parare. Andiamo sul riposo sullo 0-0. Partita molto fiacca di occasioni, molto fisica centrocampo. E qua al 65esimo arriva un po' la beffa possiamo dire perché Kevin Jones di sinistro davanti a Art lo buca sul polo più lontano e arriva il gol del vantaggio. Al 67esimo Sterling ci prova un Bakogu davanti la porta, sbaglia un gol clamoroso, non inquadra neanche la porta. Al 75esimo ci prova il capitano Musa ma Begovic è bravissimo. Allora proviamo a dare un po' di vivacità all'attacco. Don Bia allarga per Rodriguez che entra in aria ma Begovic è un muro oggi. La partita finisce qui, perdiamo un'altra partita oggi quindi torniamo a casa e finiamo l'episodio con due vittorie e un pareggio e due sconfitte. La prossima partita giocheremo con l'Arsenal. Se vi va lasciate un mi piace, un bel commento e ci vediamo alla prossima e se volete, se vi fa piacere vi faccio anche un bel live dell'Arsenal. Vedremo al prossimo episodio. Ciao!